E invece purtroppo dobbiamo salutarlo anche questo. Ci accodiamo a questa ragazza e assieme a lei tutta la cittadinanza sanbenedettese è pronta a salutare il mitico cinema delle palme. Il dopolavoro ferroviario sul cui grande schermo negli anni sono passati tutti i più grandi film, ora abbassa le serrande ed è l'ennesima sconfitta per il centro cittadino che perde un altro polo culturale. La storica struttura di via Gramsci dovrebbe infatti cessare definitivamente le attività entro la fine del mese, negli ultimi giorni i tre dipendenti del cinema hanno ricevuto le lettere di licenziamento che portano come data di fine rapporto il 15 aprile. In pratica si sa che non è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della convenzione fra gestori e ferrovie dello Stato, queste ultime non avrebbero acconsentito ad un prolungamento alla luce delle richieste dei gestori inerenti a alcune migliorie sulla struttura come ad esempio l'inserimento dell'impianto per il 3D. Ultimamente il Dele Palme ha perso spettatori a causa della nascita del Palariviera di proprietà dei fratelli calabresi. Il pubblico sanbenedettese si è riversato in massa a Portodascoli per scoprire i pregi della nuova struttura, ma comunque davanti alla chiusura oggi tutti sono unanimi a dire che almeno un cinema in pieno centro doveva rimanere. La pensano così soprattutto i giovani che avevano due sale in centro a due passi dalla stazione. Questo è rimasto l'unico cinema di San Benedetto e secondo me è utile perché è un punto di ritrovo per ragazzi e quindi portarlo via incrementa soltanto i centri commerciali e rende anche più difficile arrivarci perché ad esempio noi che siamo di un paesino e non siamo di qui, io e altre mie amiche, siamo costretti sempre a ricorrere ai nostri genitori e quindi anche… Era pratico c'era la stazione? Eh infatti abbiamo il pullman, venivamo qui il pomeriggio e andavamo al cinema. Molto più comodo nel senso con la firmata del bus, il treno così… Guidi e la macchina? No. Quindi a maggior ragione? Certo. E' una vera sfortuna per questo paese perché l'unico cinema che è rimasto bisogna arrivare fino a Porto d'Ascoli per vedere un film mentre qui prima anche il sabato pomeriggio è pieno di gente, comunque era meglio un cinema qui al centro che uno… E mentre la cittadinanza dice addio al dopolavoro si rimpiange quel centro cittadino di una volta dotato di servizi e policulturali. Ora tutto si è ridotto ad un ammasso di negozi, franchising e monomarca, è il business bellezza, potrebbe essere questo il titolo dell'ultimo film proiettato al delle palme.